Sicuramente siamo immersi nel digitale, ma a volte conosciamo poco gli strumenti e ne siamo poco consapevoli. Quindi il lavoro che stiamo facendo ormai da tanti anni è proprio quello di creare maggiore consapevolezza attorno a questi strumenti e diventa ancora più strategico ora che comunque, grazie anche al piano di ripresa e resilienza, si lavorerà proprio sulla transizione digitale. Tutti gli enti saranno chiamati a costruire progettualità in questa direzione e crediamo che anche questo possa essere un lavoro fatto in maniera ampia e di comunità. Il festival è dedicato proprio a tutto il tema dell'innovazione e del digitale da tanti punti di vista, sia per gli effetti che il digitale ha nelle nostre vite quotidiane e non solo per le più giovani generazioni che sono native digitali, ma anche per chi ha utilizzato questo strumento da adulto e che deve prenderci maggiore dimestichezza. Ma non si parlerà solo di docazione digitale, si parlerà anche di tutti gli aspetti che riguardano l'innovazione, dalla robotica all'intelligenza artificiale, fino ad arrivare a momenti più ludici, quelli proprio dedicati anche al gioco e come attraverso il digitale e il gioco si possa anche conoscere qualcosa di più di noi stessi. Quindi è un percorso a tutto sondo, un festival su cui abbiamo scelto di puntare perché crediamo davvero che per sfruttare più possibili gli strumenti del digitale si debba anche conoscerne la forza e i punti di criticità. Quindi essere consapevoli è uno dei punti fondamentali e questo è il lavoro che sta facendo l'amministrazione da anni in questa direzione. Viviamo immersi nel digitale, respiriamo ogni giorno cultura digitale, però basti pensare alla didattica a distanza, allo smart working, ai social che usiamo in maniera continua. Però al tempo stesso fatichiamo spesso a farci delle domande su come funzionano, quali siano le regole, i ruoli, quali siano gli algoritmi poi che regolano questi mondi digitali. Con Think, il festival della cultura digitale, quello che vogliamo fare è proprio porci queste domande e capire come funziona e lo faremo attraverso workshop, esperienze, seminari e anche attraverso videogiochi con un torneo di Super Mario Kart e quindi vogliamo mettere insieme esperti, studenti, padri, madri, famiglie, un po' per tutti. Quello che vogliamo fare è riuscire a porci le domande giuste, quindi riuscire a capire come muoversi all'interno di questi ambienti digitali che appunto essendoci immersi molto spesso ci dimentichiamo quali sono i nostri ruoli, quali siano le funzioni, quali siano i comportamenti. Prendiamo tutto come qualcosa di già dato e invece è importante riuscire ad analizzarlo e quello che vogliamo fare in questi giorni è proprio riuscire a capire il funzionamento per essere tutti più consapevoli.